Mi sono persa. Non ho telefono, né soldi. È uno sbirro sotto copertura. È uno sbirro. Lei è la bambola del notiziario. Non sono uno sbirro, io... È vero, sono lei. Sono proprio lei. Noi adesso usciamo. Avanti, andiamo. D'accordo, ma rimango vestita così. Indosserai qualcosa di provocante come Denise. Non ho nulla di provocante come Denise. Perché c'è tutto questo rumore? Dai, siete pronti? Vuoi prendere una boccata d'aria? Ottima idea, tu rimani qui. Sei incastrata? Sì, sono incastrata. Ti porto a casa sana e salva. Dove abiti? Dove abiti tu? Ti fidi di me? Ci sono quattro nuovi messaggi. Megan alla CMB cercano una nuova conduttrice. Verranno a vedere come lavori. Questa è l'occasione che aspetti da tutta la vita. No, 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 no. C'è la mia borsa là dentro. Sparisci, bellezza. Grazie al cielo. Ti abbiamo filmato mentre adescavi clienti. Cosa? Se ti becco ancora qui, finirai in prigione. Quindi non mi aiuterete? È meglio se cominci a correre. Non voglio intromettermi nei vostri affari. Prendermi alle spalle è una pessima idea. È meglio se sparisci. Che stai facendo? Mi chiedete di sparire? Sì, ma sparisci da un'altra parte. Dove? Dove fai a correre così veloce? Ho fatto atletica al college. Dov'è Megan? Non lo so, se n'è andata è basta. Quelli della rete oggi vengono a vedere Megan. Se tu fossi Megan Miles, dove sareste ora? No, 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 no. Oh mio Dio, c'è una donna vestita di giallo che sta attraversando la superstrada. Ho proprio bisogno di un amico. Per favore, prestami la tua bici. Ok. Sei un angelo. Fammi vedere le puppetti presto la bici. No! Ciao. Non può riavere la macchina se non mi prova che è sua. Senta io, ho le chiavi. Visto? Boop, boop. Ha visto? Ha fatto boop, boop. Non può bloccare il boop, boop con le mani. Boop, boop.